Allora adesso toccava il visiere, ci ho battito, come ci ho battito un po' alto anche lei. Cos'hai fatto il braccio? Eh, ok, aspetta eh, lo metto fino in fondo così Mario vai. Apri il polso. Così? Sì, rilassato. Sì vai vai. Vai un po' più avanti. Aspetta, intanto stringi che voglio per la tenda. E c'è un braccio un po' rilassato. Ah sto morbido così. C'è vicino? Così faccio. Che cazzo ci vuole? Ho fatto il luogo come sti giorni. E secondo me io ho un battito. No, io adesso voglio fare per i miei follower 8, 9, che io sono 9 di mattina il battito della vita nazionale. Attenzione, con la tenda insieme. Non è bene? Già partiamo da impressione. Sì sì vai tranquillo non c'è problema. Ho impressione, ragazzi attenzione. Mio fratello Mario, l'uomo quel cazzo. Non ve lo voglio dire. Ah, stai venendo l'uscita amico. Adesso finendo il video. Mario quanto c'hai? Aspetta, ancora non è uscito. Aspetta. Ah, si è smollato. Quanto c'ho? Quanto c'ho Mario? Prova a vedere. Sono morto. Quanto c'ho? Questo è mio. Quanto c'ho, come? 130-110. Ostia, 130-110? Sono già morto. Infarto io. Sono già sotto infarto, lo dice. E poi? Il battito com'è? Il battito è sotto controllo. Com'è? Dove l'ho veduto il battito? L'ultimo, 92. 92. E beh, sei un po' eccitata quest'ora. Sisto e fra Sisto. 110 milioni mi sembra buono, come Mario. Che cosa si faceva? È leggermente altissimo. Ma sì, vabbè, con la tennis a quest'ora. Allora, buongiorno Italia.